Personale del commissariato centrale ha dato esecuzione all'ordinanza con la quale la Corte d'Appello di Catania, seconda sezione penale, ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere a carico di un catanese classe 1985 residente nel rione San Cristoforo. Il provvedimento scaturisce da un'attività svolta di iniziativa dagli agenti volta ad accertare la regolare presenza in casa dell'uomo. In particolare, lo scorso 30 settembre il predetto è risultato assente al momento del controllo effettuato dai poliziotti, ai quali la madre ha riferito che si era allontanato da casa ormai da alcune ore. Il controllo è stato pertanto ripetuto nella giornata successiva con esito positivo. Stavolta infatti il soggetto è stato trovato in casa e denunciato per l'evasione commessa il giorno precedente. A seguito di ciò è stato richiesto e accolto l'aggravamento della misura cautelare con un'altra più afflittiva, considerata maggiormente idonea a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto. Pertanto, dopo le formalità di rito, l'uomo è stato associato presso il carcere di Catania a Piazza Lanza.